Musica Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Oggi parleremo di tulipane, in particolare una varietà a fioritura molto precoce che si è presentata già qui alla fine dell'inverno, assieme ai trochi e ai narcisi che è più normale che siano fioriti in questo periodo. Andiamoli a vedere, sono bellissimi. Questa è la fioritura di un tulipano precoce. Si chiama Tulipa Kaufmaniana Ancilla. Fiorisce presto, alla fine dell'inverno, deve stare al sole e al sole si apre. Invece in caso di nuvole, pioggia e maltempo si chiude e mostra queste stupende striature rosa. E' bellissimo, attira gli insetti e le api, è molto importante prendersi cura anche delle api, con un giardino che gli permetta di nutrirsi. Questi sono i tulipani botanici e sono dei gruppi incrociati con la varietà Kaufmaniana che poi sono lasciati essere indisturbati a terra per anni. L'anno scorso erano solo sei. Guardate quest'anno invece in quanti si stanno presentando. Una delle possibilità che avete però è dopo 4-5 anni di dividerli allargarli, sono bulbi quindi ai lati dei bulbi principali nascono dei bulbilli che potete una volta estratto il bulbo a fine fioritura fine autunno anzi potete pulirli e ripiantarli subito anche a terra in modo che con l'acquisto di pochi bulbi questa fioritura diventi perenne nel vostro giardino o nei vasi nel vostro terrazzo dove volete Tulipano Kaufmaniana Ancilla 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 Siamo nel tardo pomeriggio, c'è un po' più fresco e i tulipani si sono chiusi tutti. Buonanotte, a domani. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello. Buonanotte. 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 Buonanotte.